salernità napoli zero due che ne pensi madonna santissima ragazzi ma che vittoria posso dire che questa è forse una delle vittorie che più mi dà gusto sembra strano che lo so uno dice come la vittoria con la juventus la vittoria con il milan però queste vittorie dovete sapere che io da napoletano non le ho mai vissute cioè per me queste partite sono sempre state proprio la trappola per eccellenza cioè quella partita dove i giocatori non ci mettono al massimo e quindi portano a casa una bella inculata precisa e puntuale nel giusto posto dove più di da fastidio invece stasera noi abbiamo fatto quella tipica partita che sapete chi vi faceva fino a tre anni fa la juventus c'è una partita brutta anche fino a tre anni fa la costanza con cui questa cosa succede pure oggi l'avete sui genosi per almeno non ci vince gli scudetti così ecco perché c'è la parte non è stata brutta da parte del napoli sta brutta in generale è stata partita in cui noi abbiamo cercato di affondare il colpo senza prenderci troppi rischi e dall'altra parte avevamo una squadra che non giocava col 451 come nominalmente scritto ma giocava con lotto davanti e tutti gli altri che magari cercavano di fare un po di pressing a centro capo e napoli questa partita oggettivamente la portata a casa col minimo sforzo e nonostante questo minimo sforzo siamo anche riusciti a portare a casa un clean sheet che sembrava essere stato pericolosamente messo in discussione da una stronzata finale ma evidentemente la squadra voleva anche far fare qualcosa a meret che avranno detto una fatta nucazza inventiamoci un errore facciamo giocare pure lui e infatti che hai da dire dopo una vittoria del genere la grande differenza tra le vittorie che faceva che ha sempre fatto la juventus ciniche a conquista e che di solito la juventus si fa dominare dall'avversario e poi con pochi tiri se la porta a casa invece qua hai sempre dominato solo che non sei riuscito a tirare spessissimo semplicemente perché l'avversario non ti dà proprio le possibilità di trovare un accenno di spazio per poter fare le proprie giocate qui in queste partite qua a fare la differenza devono essere i singoli quindi l'uno contro uno oppure delle soluzioni da fuori delle palle messe in mezzo calci piazzati così si risolvono queste partite qua dove l'avversario decide di non giocare e di non far giocare l'avversario e riallacciandomi appunto a quello che dici tu secondo me una delle delle più grandi come posso dire uno dei più grandi ostacoli di questa partita è stata la mancanza di quara scheria secondo me non tanto quella cagata napole uscito dalla coppa vediamo come escono purtroppo come abbiamo detto anche nel nostro video analisi della partita con la cremonese il sentore che i titolari siano usciti con gran piacere della coppa italiana l'abbiamo quindi secondo me non ha toccato assolutamente nulla alla squadra quella quell'uscita però quello che poteva seriamente compromettere la partita al di là di quello che era successo nella salernitana perché che se ne dica ragazzi quelli non sono casini quelli sono compattamenti perché stasera nicola avrebbe fatto di tutto non dico per per vincere ma per non perdere e quando tu dall'altra parte hai una squadra che è disposta a far tutto pur di non perdere è molto spesso lo 0 a 0 è quel risultato che che avviene più spesso perché voglio dire è quasi obbligatorio c'è una squadra che non gioca per giocare ma gioca per non farti segnare ed è molto facile nel calcio perché gli spazi si chiudono in maniera molto nitida quindi è complicato e quindi non avere un giocatore come quara scheria che ne supera tre con un semplice gesto tecnico era praticamente il più grande impasse sulla partita invece non si sono stati bravi anche senza sforzarsi più tanto perché parliamoci chiaramente se sta partita è stato un allenamento a porte aperte non si sono sforzati più di tanto ma hanno portato la partita a casa senza senza troppi patemi e questo c'è da dare atto perché fa parte anche del del non disintegrare tutte le energie fisiche e mentali di una squadra quella di approcciare una partita senza dovessi svernare senza dover fare forse 20 tiri ogni volta per poter realizzare un gol va bene anche un 2 a 0 onesto in cui hai rischiato niente e che ti sei portato a casa vabbè alla fine tre uomini secondo me si prendono la copertina di questa partita mairetti giovanni di lorenzo e victor rosimano e come mai non mario lui ma qui c'è secco mario lui dovrebbe essere sempre nominato perché di lorenzo a parte il gol ha fatto una partita totale in tutte le zone del campo osyman è imbarazzante e meret fa una parata da da fuoriclasse e quindi questi tre secondo me sono quelli che più hanno inciso sul risultato e che sicuramente stanno attraversando tutte e tre una stagione clamorosa forse la migliore da quando vestono la casacca del napoli e adesso possiamo anche siccome siamo arrivati alla fine del giro d'andata tirare le somme su questo giro d'andata 50 punti in 19 partite 16 vittorie 2 parigi una sconfitta direi che tutto sommato mandata ma c'è poteva andare meglio però non male cioè dire ma devo dire la verità io ci metterò un po a pulire l'unta di aver perso punti con la fiorentina devo essere onesto con me stesso però per il resto penso che vada tutto bene non si poteva fare di meglio adesso tre le squadre fiorentina lecce e inter sono riusciti in questa impresa io voglio perderli con il lecce li voglio perdere pure con lì ma con la fiorentina no chapeau chapeau a queste tre squadre e poi un ultimo commento in breve spero di arrivare pure io a 50 anni come nicola con quei capelli mai visto il stile che bene se li mette pure dietro alle orecchie precisi bello mi piace un bacio a davide nicola vabbè ma da adesso in poi le cose iniziano a diventare serie perché c'è secondo me finché non arrivi a questo momento qui ci sa che uno dice vabbè il campionato è lungo dobbiamo pensare partita dopo partita non ci dobbiamo pensare adesso secondo me è sputare in faccia alla realtà non ammettere comunque il napoli è la favorita per lo scudetto ma anche dal punto di vista dei giocatori per me giocatori è importante che scendano in campo in ogni partita sapendo che ogni partita può decidere lo scudetto cioè ormai dobbiamo rendercene conto non possiamo più sottovalutare noi stessi e sopravvalutare gli altri gli altri purtroppo non stanno tenendo il passo noi stiamo andando a una velocità che non esiste e dobbiamo rendercene conto punto e basta guarda è quasi obbligatorio perché è uno scudetto che se oggettivamente tu vai a perdere l'hai perso proprio tu c'è qualcuno ti può fare pure il miracolo però come fai a farti recuperare quasi 10 punti premettendo che magari le altre vinceranno quasi 10 punti senza ricriminarti qualcosa cioè voglio dire al napoli basta fare un girone di ritorno onesto quindi bene o male sui 35 punti e letteralmente l'ha vinto matematicamente quindi no ma ti diventa difficile ti dirò di più un seppure il napoli si dovesse cioè mettiamo il caso del napoli non fa un girone di ritorno all'altizza di questi 50 punti ok per far perdere lo scudetto al napoli una di queste tre squadre cioè anzi facciamo queste due perché ormai conterei soltanto milan e inter una di queste due squadre deve fare almeno 50 punti nel ritorno se non fanno 50 punti non possono raggiungere il napoli è così cioè se milan e inter fanno 50 punti nel girone di ritorno allora se ne può parlare perché ragazzi se il milan e l'inter si riconfermano a questa media qui quindi intorno ai 40 punti ma massimo a 80 punti possono arrivare cioè il napoli per arrivare a 80 punti partendo a 50 punti basta fare 30 punti praticamente cioè c'è una bella differenza cioè quindi molto molto difficilmente si riaprirà questo campionato per quanto mi riguarda ed è giocato di ritorno a pensarci bene 10 partite da vincere e arrivi ad aver fatto quei punti ma sì cioè tra 30 punti siamo ad 80 cioè 30 punti con questa velocità può essere che li raggiungi con parecchie giornali d'anticipo cioè c'è troppo vantaggio per nascondere la testa secondo me cioè uno se ne deve rendere conto cioè pure sentendo le interviste dopo la gara ok vogliamo rimanere con i piedi per terra però c'è un certo punto un giocatore deve rendersi conto di quello che sta facendo e deve cavalcare proprio questa cosa infatti da questo punto di vista è stata più convincente l'intervista che ha fatto Meret rispetto a quella che ha fatto Spalletti perché almeno Meret ha ammesso che la squadra guarda la classifica semplicemente perché è inevitabile guardarla nel senso che quando ti accorgi di avere tutti quei punti di vantaggio tutta quella differenza di t di vantaggio come fai a non dire ok è tutto in mano mia sì poi senza considerare che nel ritorno c'hai tutti gli scontri diretti in casa tranne contro la Juventus che tanto ormai è fuori dai giochi e quindi non è neanche più una rivale mai stata Napoli è troppo dominatore del campionato per potersi togliere dal discorso il Napoli deve ragionare quest'anno almeno in generale come la regina del campionato non può ragionare da squadra che se riesce allora fa cioè ti trovi in una condizione dove guarda che noi abbiamo il doppio anzi più del doppio della differenza reti del Milan secondo abbiamo lo scontro diretto con loro a favore cioè come fai se per esempio arrivassero a quali punti comunque perderebbero loro quindi veramente c'è un vantaggio troppo grande ma arrivato a questo punto io non voglio sentire la frase però noi non siamo partiti con questo obiettivo no ormai l'obiettivo è questo cioè ormai il campo ha parlato e tu quello che pensavi prima della stagione non è importante il campo ha detto che adesso il tuo obiettivo è vincere lo scudetto e se non lo porti a termine purtroppo hai fallito c'è poco da fare cioè i giocatori il potenziale di questa rosa ha dimostrato con un girone d'andata clamoroso che come minimo devi vincere lo scudetto ormai io avevo ragione in questo modo ebbè è inevitabile detto proprio francamente è inevitabile ragazzi questo video finisce qui fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video forza Napoli grazie a tutti